Grazie. Grazie. La vicepresidente della comunità del Belgio. Ha appena avuto la stella d'Italia. Sì, sono diventata cavaliere. Grazie. E la nostra responsabile della comunità Kiev. Anche lei, con Vittorio. Vittorio Vianari, con la saceroccia della comunità. Presidente, come va? Grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti